in questo video andremo a vedere l'A07 e il relativo Upgrade arrivati all'angolo dell'unboxing o più precisamente all'angolo d'erba la scatola bene andiamo ad aprire quello che contiene la scatola al suo interno troveremo l'unboxing amplificatore di IMA il modello è un oggetto che anticipo già è la 07 bene questa qua è la scatola togliamo quella con la copertura come vedete troviamo un alimentatore e qua così abbiamo il suo amplificatore un piccolo foglio che riporta quelle che sono le caratteristiche tecniche dell'amplificatore un adesivo carino però dai mettere un adesivo è una cosa carina bene passiamo ad altro abbiamo il suo alimentatore l'alimentatore chiaramente è uno switch un alimentatore switching come vedete è in grado di erogare 5 ampere a 32 volte qui abbiamo anche quello che poi è l'alimentazione con la presa classica presa l'italiana ma andiamo a vedere quello che poi è la cuore di tutto ossia dentro in questa busta troviamo l'amplificatore amplificatore come vedete è realizzato in un telaio tutto in ferro qui abbiamo appunto la parte posteriore la cosa interessante vediamo sul frontale che è proprio minimalista troviamo semplicemente una levetta d'accensione il modello qui abbiamo un piccolo led che ci va a indicare lo stato se è operativo o meno e il volume così come dietro abbiamo proprio semplicemente i due rca dove dovevamo appunto utilizzare per inviare il segnale e qui quello che sono le uscite che vanno gli speaker e il relativo alimentatore molto semplice fine conti è tutto integrato quello che riporta il costruttore come potenza dichiarata sul carico di 8 ohm quando abbiamo l'alimentatore appunto abbiamo detto al 32 volte 5 ampere eroga una potenza di 65 watt sul carico di 8 ohm e 75 sul carico invece di 4 bene questo è sostanza la scheda la potenza maggiore viene erogata con 48 volte a 10 ampere e addirittura dichiara con un alimentatore da 48 volta a 10 ampere una potenza sul carico di 8 ohm di ben 180 watt che salgono a 250 watt sul carico di 4 ohm con una potenza massima impulsiva di 190 watt su 8 ohm addirittura 300 watt su quello che è il carico di 4 potenze davvero molto elevate peccato che però questo alimentatore non viene fornito in dotazione a di là di questo vediamo un attimino come suona perché poi va bene dichiarare tutte queste potenze mi sta bene vanno sempre rapportate però le potenze in funzione del carico cioè del diffusore che andiamo a collegare di conseguenza va bene poter avere tante potenze così da permettere appunto di collegare qualsiasi diffusore ma la cosa più importante sarà da capire qual è la timbrica di questo piccolo amplificatore in classe D qui come vedete sto praticamente smontando l'amplificatore ho rimosso anche la manopola del volume ma in realtà non serviva bene abbiamo aperto quello che è l'amplificatore come vedete questi sono i due integrati che andremo a sostituire dopo vedremo bene anche quali sono appunto le sigle dei due sempre se si riesce a leggere perché sono molto molto tenue bene adesso procediamo con la sostituzione questo upgrade come avete visto è stato direttamente consigliato dal costruttore AIMA in quanto a detta appunto del costruttore migliora sensibilmente quello che la qualità del suono bene avete visto è stato sostituito quello che sono i due chip questi sono i due nuovi chip niente di difficoltoso bisogna solamente avere la pazienza di osservare bene che i piedini sono perfettamente allineati con lo zoccolino che in basso il problema che abbiamo questi condensatori qua che non agevolano di certo quello che all'intervento di sostituzione in quanto sono proprio in una posizione che danno un po fastidio però vabbè un intervento che come avete visto può chiunque armato di un po' di pazienza eseguire questi due integrati sono facilmente reperibili in rete ad un costo piuttosto basso di conseguenza chi fosse il possessore di questo amplificatore e volesse effettuare un upgrade lo può fare in tutta libertà una volta effettuato l'upgrade vado a rimontare tutto quello che è l'amplificatore mi spiace veramente per quello che è l'audio in quanto non mi sono accorto del fatto che stava innescando il microfono purtroppo un intervento che non posso andare a ripetere di conseguenza ho dovuto mantenere l'audio originale anche se mi rendo conto che davvero fastidioso come rumore scusate ancora un amplificatore che risulta nelle forme piuttosto anonimo parlo dell'IMAT A07 presentandosi al pubblico con una potenza dichiarata di 300 watt per canale e ne fa della potenza il suo cavallo di battaglia giusto per aprire una parentesi io quando scelgo un'amplificazione opto più per quello che è la timbrica che per la sua potenza timbrica che può essere dettagliata raffinata che può essere dinamica calda oppure squillante tutti i termini che descrivono qualcosa di soggettivo mentre sappiamo che la potenza è un valore oggettivo valore sia oggettivo ma che può essere modificato non entro adesso qua nel merito a proprio piacimento del costruttore di conseguenza dichiarare potenze che si vengono misurate realmente per quello che vengono dichiarate ma poi a livello pratico sono ben diverse chiudo qui queste parentesi con quello che poi è quello effettivamente che possa servire a noi tutta questa potenza diciamo la verità un amplificatore da 300 watt che diffusore può pilotare così ostici e poco sensibili non certo un diffusore visto la fascia di prezzo di questo amplificatore che si attesta sotto i 500 euro quest'ultimi saranno sicuramente dei piccoli due vie o al massimo tre vie che comunque sono piuttosto sensibili di conseguenza una potenza che effettivamente a noi non serve e qui chiudo questa piccola parentesi parlando all'aima in effetti la potenza è presente e lo si avverte non ho voluto misurarla perché come ho detto prima non è un parametro che mi interessa di conseguenza non mi interessa sapere se sono 50 70 o 100 watt invece vi riporto quelle che sono state le mie impressioni d'ascolto devo dire che però la potenza in effetti c'è collegata al diffusore più ostico che ho parlo della r11 che vedete in foto effettivamente la potenza si sente si avverte tant'è che le pressioni sonore erano davvero molto elevate pressioni sonore che di certo non sono abituato a tenere con questi volumi devo ammettere che sono rimasto stupito che l'amplificatore non ne risentiva anche se la timbrica non era molto dettagliata e soprattutto mancava di spazialità certo stiamo parlando di un amplificatore più che onesto nella fascia di prezzo di 100 euro ristiche che però devo ammettere ho trovato anche su amplificatori di questa fascia e con questa categoria di amplificazione in classe d di altri produttori in conclusione un amplificatore più che onesto sia per quello che è il suo prezzo di vendita che anche per la resa sonora amplificatore che vedo bene in un piccolo impianto non certo in un impianto principale di un vero audiofilo grazie a tutti